Lo conoscete il gioco più veloce del mondo? E vi parliamo di un titolo davvero strano Ciao a tutti giocatori, giocatrici e semplici curiosi Noi siamo i giullari come ogni venerdì anche se oggi è il 2 giugno Festa della Repubblica e quindi tanti auguri a tutti quanti Buona giornata di festa, nonostante sia festa noi siamo qua Per raccontarvi ciò che abbiamo giocato nella settimana appena trascorsa E come sempre vi ricordiamo che siamo anche su Patreon Quindi se vi va di supportarci, se volete avere dei contenuti esclusivi La possibilità di scegliere con noi quali video registrare, quali video portare sul canale Trovate il link qua sotto in descrizione Dai, forza, dai giulamani 5 euro, dai Partiamo con il parlarvi di Magic Rabbit Titolo che è il gioco più veloce del mondo In quanto una partita durerà soltanto 2 minuti e mezzo Ma vi troverete a fare partite una dietro l'altra Come avete visto tra l'altro anche già nel nostro video Uscito lo scorso sabato In cui vi abbiamo fatto la nostra partita completa Unita a tutorial, unita alle nostre impressioni Se ancora non l'avete fatto correte immediatamente a recuperarlo Nel gioco noi ci troviamo a dover aiutare il mago a preparare il suo spettacolo di magia Andando a riordinare i cilindri colorati numerati da 1 a 9 Metterli in ordine numerico crescente E far sì che sotto ogni cilindro ci sia il coniglio del colore del numero corrispondente E noi potremo farlo collaborando tutti quanti assieme Ma stando in silenzio Senza poterci comunicare l'un l'altro Che cosa stiamo vedendo Cosa stiamo facendo O cosa vorremmo fare Stai zitto Tu devi stare zitto Siccome è il nostro turno noi possiamo fare una di tre azioni O prendere un'intera pila, cappello e coniglio nascosto al di sotto Per vedere noi e solo noi qual è quel coniglio che c'è nascosto lì sotto Oppure scambiare due cappelli anche non adiacenti tra di loro Oppure scambiare due pile Quindi coniglio, cappello, coniglio, cappello Scambiarli tra di loro A patto che queste tessere su cui noi andiamo ad agire Non abbiano su di sé una colomba Colombe che poi potremo comunque spostare nel corso del Dopo aver fatto la nostra azione nel nostro turno Ma la colomba ci impedisce di muovere una certa pila di tessere Ma allo stesso tempo ci può anche essere d'aiuto Per comunicare qualcosa agli altri Nel momento in cui noi muoviamo queste colombe O per bloccare un cappello O per liberare un cappello che in quel momento ci serve Avendo due minuti e mezzo Il gioco è veramente frenetico e ansiogeno Anche perché oltre al dover mettere a posto cappelli e coniglietti C'è anche da capire cosa fa l'altro Cioè l'altro spostando quel cappello in quella posizione Cosa mi vuole dire? Non capisco cosa vuoi dirmi Quindi c'è questa cosa devo rimettere in ordine tutto Devo guardare, ricordarmi cosa ho guardato Perché poi anche con gli spostamenti uno si dimentica Cioè io mi dimentico cosa si è guardato Il tempo di Saclessida che comunque corre inesorabilmente Quindi si crea veramente al tavolo Uno stato di ansia, agitazione, frenesie, divertimento Che solo giochi a tempo così brevi riescono a dare A seconda del numero di giocatori Chiaramente più siamo più è difficile riuscire a capirsi Prima che tocchi nuovamente a me Avranno giocato altre persone Quindi sarà più difficile Ma allo stesso tempo avrò meno colombe In mezzo alle scatole che mi bloccano Cappelli, mi bloccano posizioni che non potrò toccare Mentre se gioco da solo Perché è anche prevista la modalità in solitario Avrò addirittura 5 colombe Quindi anche riuscire a trovare gli spazi I posti dove spostare queste colombe Per avere comunque la possibilità di agire Sulle altre file di tessere Non sarà così semplice Quindi si bilancia molto bene in questo modo E se fatta qualche partita riuscirete a trovare dei A trovare il modo di farcela Di capirvi, di iniziare a capire Ok se lui ha mosso questa pila Allora vuol dire che avrà probabilmente portato a posto il coniglio Io dovrò solo più spostare il cappello nel mio turno Se mi ha bloccato questa pila di tessere con la colomba Io non vado di nuovo a togliere la colomba da qua E rimetterla da un'altra parte Che rischio di dare fastidio comunque al gioco del mio compagno Ma il fatto è che voi vinta la vostra prima partita Quindi se in due minuti e mezzo Riuscirete a completare il trucco di magia E quando andrete alla rivelazione Sembrerà proprio un po' un trucco di magia Che viene fatto davanti a un pubblico E sta riuscendo E quindi è molto figo anche come sia stato ambientato Ci sono poi tre buste all'interno della scatola Con una, due e tre stelline Completata la vostra prima partita Aprirete la prima busta All'interno della quale troverete dei nuovi materiali Che vanno ad aggiungere nuove regole Nuovi vincoli e anche dei nuovi obiettivi Quindi dei nuovi trucchi di magia da cercare di fare Quindi avrete ancora più vincoli Nel vostro modo di dover muovere le cose Magari di dover muovere le colombe Avrete delle tessere nuove Da dover aggiungere al gioco Che vi vanno a rendere il gioco più difficile Perché avrete ancora meno informazioni E dovrete dedurre ancora più cose Mentre state facendo il vostro spettacolo di magia Ma tutto sempre in due minuti e mezzo E questa cosa è molto molto figa Anche perché da un lato ti lascia la voglia Di continuare a giocare Provare a superare quel livello Per aprire la busta successiva E vedere che cosa contiene Allo stesso tempo se c'è una regola Che non vi piace con quella cosa lì Con quella aggiunta lì Lo trovate troppo difficile Ok, chi se ne frega La potete tranquillamente lasciare da parte E poi tarare il gioco Con le componenti Con le regole che vi piacciono Che vi divertono Per farvi la vostra sfida Anche magari adattata al gruppo di gioco Con cui siete Questa è una caratteristica Che mi piace molto Perché ci sono quei giochi Che magari vi buttano già subito Tutto dentro Tutte le regole Con tutto E poi questo fa quest'altro Questo con questo Poi fa quello Quindi tutto insieme Invece così A gradi È bello Perché comunque ti porta A fare tante partite Per riuscire a Vedere Vedere Svelare tutto E dall'altro Introducendo tele piano piano Tu precedentemente Hai già assimilato Tutte le regole precedenti E i trucchetti Che magari Uno mette Per riuscire nella partita E si aggiungono Queste difficoltà Quindi il gioco Ha sempre Il suo Sempre nuova vita Sempre nuova linfa E sempre nuove sfide Da dover affrontare In più Cosa non banale Che a me piace molto Sono i coniglietti Perché la rappresentazione Di questi coniglietti Ogni coniglietto È in una posizione diversa Che io trovo simpaticissima C'è quello che fa la pernacchia Quello che fa lo yoga Quello a piedi in su Quello che fa tutto il sexy sdraiato Sono simpaticissime Anche la grafica È veramente molto carina Quindi un giochino Da due minuti e mezzo Ma che può regalare Veramente un sacco di cose Ultima cosa che ci teniamo A sottolineare Non prendetelo come Un gioco esclusivamente Per bambini È sicuramente un gioco Adatto a tutta la famiglia Adatto a giocare anche con bambini Nel video che è uscito sabato Che vi invitiamo ad andare A recuperare L'abbiamo giocato con Alice Che ha fatto da poco nove anni E nella sua modalità base Comunque dopo un po' di partite È riuscita ad entrare nel gioco E a capire come fare Ad affrontarlo E quali escamotage adottare Ma è un gioco che tranquillamente Lo si gioca anche tra Gruppo di adulti Anche in una serata Magari si è qualcuno in più Si vuole quel gioco Da dover tirare fuori E dire agli altri Ma guarda Questo gioco dura solo Due minuti e mezzo Non ti porto via Tutta la serata Se poi non ti piace Non ci abbiamo voglia Facciamo qualcos'altro Ma si ha comunque Quella scusa A quel piccolo cavallo di troia Per dire intanto facciamo Una partita Dura due minuti e mezzo Le regole sono basilari Nella sua modalità base Quindi ci va Veramente niente a capirlo Ma vedrete che è finito il tempo Ah no come è finito il tempo Non ho capito Bastava scambiare queste due L'avremmo fatto Rifacciamolo Che dobbiamo riuscire In quel momento Gli avete già Calappiati tutti quanti Come sempre Vi lasciamo il link Qua sotto in descrizione A noi è piaciuto E ve lo consigliamo Abbiamo poi giocato a Splito Una partita a quattro giocatori Questo titolo Che ha sì Una modalità Per giocare in due Ma che comunque Nasce per essere giocato Almeno in tre giocatori Perché un po' Come era già anche In Between Two Cities Noi andremo a costruire Qualcosa Col nostro vicino di destra Qualcosa col nostro Vicino di sinistra Che qua saranno Semplicemente delle carte Che possono essere Delle carte numerate In vari colori Che se ne abbiamo Le giuste quantità Date dalle carte obiettivo Che potremo anche Giocare o col vicino di destra O col vicino di sinistra Ci danno dei potenziali punti E vincerà il giocatore Che avrà fatto più punti Da una parte E dall'altra Perché i due valori Poi verranno Moltiplicati tra di loro E quindi Chi è riuscito a Bilanciare meglio I suoi due gruppi di carte A sinistra e destra Ma soprattutto Averli fatti Fruttare al meglio Sarà il vincitore Quanto fa? 20 più 18 Il fatto di equilibrare Al meglio È proprio il fulcro La difficoltà del gioco Perché inizialmente Si inizia Si hanno degli obiettivi Due obiettivi Che sono comuni Per tutti Quindi si più o meno Può indirizzare In un modo Nell'altra partita Ma non ancora completamente Perché nelle carte Che noi abbiamo Ci sono comunque Ulteriori obiettivi Che decidiamo di giocare Con un giocatore O con l'altro E quelli saranno obiettivi Solo nostri Mentre i due comuni Verranno poi vinti Verranno presi Dal giocatore Che effettivamente Soddisfa Quella maggioranza I due obiettivi comuni Saranno sempre di Avere più di un colore Avere più di un numero Mentre gli obiettivi Che poi avremo Nei mazzetti E che ci troveremo Quindi a dover giocare A sinistra O a destra Possono anche essere Avere esattamente Due carte di questo valore Avere tre carte In questi tre colori Avere maggioranza Di questo numero Oppure non avere Assolutamente carte nere Non avere assolutamente Carte da uno Il bilanciamento Quindi non è solo Sul punteggio Ma proprio anche Sugli obiettivi che dai E avere anche Un attimo occhio Di cosa sta facendo Il tuo compagno Con l'altro giocatore Perché poi magari Io mi fisso Sui miei due Sui miei due pezzi Le mie mie due postazioni E magari poi passo carte Che all'altro giocatore In realtà sono utili Con l'altro compagno Di squadra Quindi ho trovato Molto veloce Comunque Molto Non difficile Perché poi comunque Non ha difficoltà Però molto stimolante Molto colorato Perché ha dei colori bellissimi Io mi sono divertita Davvero tanto a giocarlo Vorrei provarlo in due Per vedere come gira Non secondo me Non dà le stesse Vibes Del gioco a più Però Un gioco carino Che mi è piaciuto E concludiamo Questa settimana Parlandovi di Mindbug Gioco per soli due giocatori Che è stato anche presentato a Play Ma noi ce l'eravamo Un po' perso E in realtà Ce l'hanno fatto giocare Mickey e Luca Che loro se lo sono presi A Modena E ce l'hanno descritto Proprio iniziando La parola di fare Ma mi facciamo questo gioco qua E' un gioco strano Mindbug è un gioco Solo da due Di Richard Garfield Il papà di Magic Che ha un mazzo di carte mostro Quasi tutte diverse Alcune si ripetono in più copie Ma tutte con dei poteri Molto strani Molto stravaganti Sono tutte quante Molto forti Ma anche molto situazionali Ognuna di queste carte Avrà un suo valore di forza E mescolato questo mazzo Vengono date 10 carte A ogni giocatore Che fanno il proprio mazzo di pesca E si giocherà solo ed esclusivamente Con quelle carte in quella partita I giocatori pescano poi 5 carte da questo mazzetto E al loro turno O giocano una carta Davanti a loro Attivandone eventualmente Gli effetti di entrate in gioco E poi ripescano Tornare a 5 Oppure usiamo Una delle carte Che abbiamo davanti a noi Per attaccare l'avversario L'avversario può scegliere Di non difendersi E subire un danno Si parte con 3 punti vita E se si arriva a 0 Si ha perso Oppure può decidere Di difendersi Con una delle creature Che ha davanti a sé In quel momento Le due creature combattono E quella più debole Delle due Viene scartata In caso di parità Entrambe E la particolarità È che come dicevo Ognuna di queste carte Ha poi delle Ci sono 5 parole chiave Praticamente Su queste carte Che possono essere Veleno Furtivo Tenacia Insomma Delle Delle abilità Che si attivano Con cui puoi magari Attaccare due volte Quando viene attaccato Non vieni subito sconfitto Ma avrai ancora Un altro attacco Da dover subire Prima di essere distrutto La possibilità di scegliere Quale dei difensori Dell'altro andare ad attaccare Tutto molto molto situazionale Come dicevamo E anche molto casuale Nell'ordine in cui ti arrivano Queste carte Sì anche perché poi Non arrivando tutte Non si sa Non sai bene Cosa giocherai Cosa potrà giocare l'altro E La Colpo di genio Di questo gioco È il fatto che ogni giocatore Ha due carte Mindbug Da cui il titolo del gioco Che se Vale Mi gioca una carta contro Io vedo quella carta e dico Cavoli Che forte quella carta Sarebbe bello La ressi io Io posso utilizzare Una delle mie due carte Mindbug Per rubargli quella carta Farla diventare mia A tutti gli effetti È come se l'avessi giocata io E poi tocca di nuovo Vale Cosa? Il problema qual è Di questa cosa È che si crea Una bella tensione Perché ogni carta Che giocherò io Che magari è molto forte L'altro me la potrebbe rubare Allo stesso tempo L'altro gioca una carta Che dico Cavoli che bella Gliela rubo E poi magari non era la più bella Magari ne aveva altre Più utili E ne abbiamo solo due Quindi bisogna Questi due qua Eppure ci sono poi Delle carte Che saltano fuori Tu dici Ah ti ho preso Le migliori Ok E poi mi sono tenuto Quella carta Me la gioco E che riesco a Recuperarmi tutti gli scarti Ed improvviso Ho di nuovo Dieci carte in mano E l'altro non capisce Come ho fatto E l'altro non riesce più A sopravvivere Perché poi si arriva Comunque alla fine A un certo punto Anche perché le carte Non è che poi le ripeschi C'è quelle sconfitte Escono dal gioco Quindi hai quelle dieci Eventualmente Dodici Se ne prendi due All'altro Ma l'altro Te ne prenderà due Magari poi non hai tempo Di giocarti il mind bug E magari appunto Dici cavolo Questa carta è bella Mi servirebbe giocarmela adesso Ma se lui me la ruba E che ci faccio Vabbè Rischio Magari non me la ruba Perché lui in attesa Di altro In quel momento Lui non serve E poi in base A come si combinano Queste carte Alle dieci che ho io E alla partita dopo Saranno altre dieci Siccome è un modo diverso E quindi Una partita è diversa Assolutamente sì Ed è sia il suo pro Sia il suo bello Che allo stesso tempo Il suo brutto Per come sei fatto tu Perché tu hai No ma non per come Per come sono fatto io E perché comunque Effettivamente lo rende Un gioco strano Cioè è davvero Un gioco strano Perché comunque Non sai mai Cioè finché non hai Giocato tutte le case Non sai mai C'è comunque Una grossa componente Di casualità Che va benissimo Per il gioco che è E mi piace Che sia così Altrimenti se si voleva Un gioco strategico Non vai sicuramente A cercarsi questo Però è Strano Infatti Cioè non so come altro Definirlo No perché poi ci sono Altri giochi Tipo che mi viene in mente Anche un season Ci sono tantissime carte Non sai quali carte Ti possono uscire Certo Però il mazzo è quello E la Ma che quale mazzo è questo Però la partita è anche Talmente più breve Esatto Che non hai tempo Che c'è la carta Che davvero svolta la partita E poi magari Nella partita dopo La stessa carta È una scartina Perché a seconda Di come si combina Con le altre Non funziona E quindi è strano Per questo Perché non avrai Mai Secondo me Non arrivi mai A dire Ah ok So padroneggiare Mindbug Lo so giocare bene Nessuno Neanche il suo autore Può dire una cosa del genere E finisce così In modo così strano La nostra settimana ludica Ma prima di salutarvi Come sempre Vi ricordo che lunedì È uscito il nostro Gameplay della grangia Ci avete corretto Che si dice Gran co Gran co Ma noi professore Ce ne sbattiamo le palle Per me Nel mio corso Non rimane la grangia E salutiamo I maggiorchesi Anche se forse Si chiamano Maiorchini Ma portate pazienza Siamo fatti così A mercoledì È uscito invece Overbooking Quindi se ancora Non l'avete visto Correte subito A recuperarvi Il nostro gameplay Del vincitore Del premio Archimede È stato pubblicato E presentato Anche a Play L'abbiamo giocato In due Quindi andate a vedere Anche come scala In questa modalità In soli due giocatori Noi come sempre Vi salutiamo Vi ringraziamo Per essere stati con noi Lasciate commenti Diteci cosa avete già giocato Se anche secondo voi Mindbug È così tanto strano Oppure no Noi vi diamo appuntamento I nostri prossimi video Vi ricordiamo Che qui a casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che il gioco sia con voi Ciao Ciao